Al Tardini va in scena la quarta giornata della Serie A femminile team con la sfida tra Parma e Milan. Rossonere che dopo due K.O. di fila hanno trovato i primi tre punti della stagione contro il Sassuolo e cercano continuità. Ducali invece che vengono dalla sconfitta di Firenze provano invece a realzare la testa. Spazio l'islandese può andare al cross in mezzo. Tom ha anticipato la palla resta lì. Trighe si coordina, si mola Bardin per respingere la conclusione. Ancora Milan in avanti con Arna Dottir. Il cross, in qualche modo poi Tom ha è sulla linea. Ribadisce in rete Dubkova. Codito ma rivediamolo meglio. E sì, qui punta Santoro. Palla per Aslani, prova a entrare dentro l'area. Aslani, il cross in mezzo, il colpo di testa e l'intervento provvidenziale di Capelletti. Che nega il gol a Bergamaschi. Per Tom ha dentro l'area. Tom ha l'appoggio ancora per Trighe. Prova a liberare il destro, l'appoggio all'indietro. Adami, pensa al tiro, lo effettua. Adami, la traversa, la palla che resta lì. Bergamaschi e il gol del Milan. Il Milan passa al sedicesimo minuto di gioco. Stavolta Bergamaschi riesce a trafiggere Capelletti. Nei primi minuti di gioco, qui, il bolide dalla distanza di Adami. La prima ad arrivare sul... Comunque la rimessa con le mani resta in zona offensiva il Milan. Dubkova per Aslani. Aslani, pensa al tiro a giro. L'effetto Aslani! È un gol stupendo! Quello del numero 9 del Milan. Secondo gol in campionato. Un tiro a giro sul palo più lontano. Milan che va sul doppio vantaggio al trentaseiesimo. Il gol di Aslani. Kosovare. E qui, guarda la porta. Non può mai e poi mai arrivarci lì Capelletti. Gol splendido di Aslani. Tomà contro Capelletti. Il fischio della direttore di gara. Parte Tomà! Intuisce Capelletti. E poi sulla ribattuta il gol del Milan che va sul 3-0. Gesto di Stizza qui di Capelletti. Che aveva intuito, neutralizzato il rigore di Tomà. E poi arriva Trighe. Questo minuto della ripresa porta il Milan sul 3-0. Anche in questo caso però. Chance da calcio piazzato con il pallone lungo a cercare il colpo di testa. E' il gol di Dubkova. 4-0 per il Milan. 4-0 con il colpo di testa di Dubkova. Salta più in alto di tutti. Al 79esimo minuto di gioco. Suggerimento di Tocceri Cimini. Prende bene il tempo proprio sulla nuova entrata Giovanna Maia. Dubkova a campo. Punta Cox. Si fa vedere Vigilucci dentro l'area. Vigilucci prova il diagonale. Tocceri Cimini. E altro gol annullato per fuorigioco. In questo caso a Tocceri Cimini. Siamo già oltre il terzo di recupero. E infatti arriva il triplice fischio del direttore di gara. Finisce qui il match. Il Milan vince 4-0. Seconda vittoria consecutiva per Lea Rossonere. Secondo K.O. di Fila. Secondo K.O. di Fila.